cari amici del tubo ciao a tutti buona serata a tutti eccomi qua dice ma che fatti tina col cappuccio sono salita proprio ora perché ci avevo un appuntamento con polpi e ci siamo fatti gli auguri e lui mi ha portato una cassata siciliana ok infatti mio marito mi ha detto dice ma questa casa questi soldi da dove ti sono venuti per questa cassata giusto tutto fatto a fare tu accattando tu un donna a mangiare ok perché non è che ci potevo dire che me l'ha regalata polpi se no si mette cose in testa sia lui le sue sorelle tutte cose ma siccome voi sapete che non c'è niente di male che io sono una persona seria e fina una persona quando ha la serietà può andare dove vuole si può trovare in qualsiasi posto pieno di uomini signori miei è pieno di uomini vuoi dire niente ci volesse capito io parlo di amici gentili e cose varie e chissù signori miei le mie cognate diversamente loro non solo loro ma io quando mi vedo con un amico questo è un amico mio il macchinista che conoscete tutti mi ha detto se ci vediamo giù da te al bar o una cosa da darti così ti faccio gli auguri ci dicevo di no prima mi informavo c'è se cosa c'hai da darmi dice un dolce è un dolce ma che dolce dice ti sto portando una cassata del mio paese perché lui è di paese ci si ma guarda dammi il tempo di vestirmi signori miei se rifiuta non c'è qua se c'è poi c'è poco birrillo come cagnolino io dove vado 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 con birrillo e faceva birrillo e faceva birrillo e faceva vede ieri e dice ma che fai mi muore e se tutto mi tocco il mozza c'è se quindi state distante c'è ma neanche un bacetto così guancia a guancia ci possiamo dare saturnese dammi la cassata e fila e signori miei dovevo farlo no dovevo farlo scusate ma e disse ancora con il giubbotto messo io mi devo fare vedere dal pubblico scusate signori ma non sto tanto bene perché e vabbè comunque l'importante è essere qua forse la cassata che l'ho mangiata con gli occhi a rapivo ma com'è zuccata signori miei tutta bella ciliegine tutte queste cose di qua allora dissi perché non fare una premiere una premiere subito istantanea e mandarla al mio pubblico che mi segue oggi signori miei sono un pochettino è passato ora un po tutto perché ho avuto tutto addormentato fino a pochi minuti fa e signori miei altre due mole sono andate via dice come ti mangi la cassata senza le mole signori di questo non preoccupatevi sono competenze mie come le mangiare è giusto così un metodo si trova un metodo lo devo trovare perché forse frullata ma che è una ricotta verrà fuori un misto fra pan di spagna ricotta ci frullo pure le ciliegine ma gancio nella vita bisogna arrangiarsi è così e io lo faccio volentieri va bene ancora giù forse manco se ne aggiunto col treno però c'è qualcosa che non mi convince amici miei sapete e ve lo voglio confidare quando lui è sceso è sceso con una valigia di questa trolla di trolla chiede che camminano a rapeo e ha preso la cassata io ho visto che dentro c'era una vt 5 cassata messe su questo valigione ci ho domandato ci ho detto ma queste cassate tutte le altre dice no vi devo portare a casa ora dico io se dove mangiate 6 cassate a casa scopate subito il terretto ospedale giù cioè non voglio immaginare che ma può essere che altre amiche e quindi ce li ce li porta ma comunque gentilissimo quando si trova la gentilezza che c'è berillo mi fa non ti preoccupare che stasera c'è la tua cassatina che già tu cassate a me all'entrame ne fai un mare capito? abituata ci sono con le cassatine questa non è al cioccolato come quelli che fai tu vedete che sono bella quando esco con il giubbotto vedete mi metto sul giubbotto e vado ovunque dove passa titina tutti la rispettano buonasera signora titina buonasera signora titina buonasera buonasera signora titina buonasera un picciottetto fa vai accate a mia assenza che lo conoscevo mi giravo certo vieni qua certo a chi l'hai detto va buttalo a te a tomate c'è la ghiera a dire non a me c'è il suo a tomate ma che cosa è questa cosa è caccia se vai stasso con se no signore mia ma va bene dico neanche una può camminare che trova sia la gentilezza che la vasta saggine ok io vado più d'accordo con la gentilezza però perché voi dovete vedere me quando io entro per esempio in farmacia che ci sono entrata oggi c'erano tantissime persone in fila tutti si sono girati mi hanno visto dice facciamola passare dice signore attenzione ci ho detto queste cose a me non piacciono io non faccio passare nessuno e quindi non è giusto che voi fate passare me ha già tanto tempo che voi siete qua che state facendo il turno sono qui nudi ce la facciamo passare certo no 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 poi mi è venuto un dubbio se perché mi voglio fare passare chissà prima capito perché perché loro sanno che io discutono li osservo ok per capire che persone sono è semplice la cosa infatti ho fatto tutto il mio turno al passare io una fa dice va bene vado a prendere che non mi ricordo qual è la cosa che dovevo chiedere ce l'ho in macchina il daniscio io passavo tutto perché era l'unica che aveva detto che non mi faceva passare nel mentre che ero la sempre con tanta gentilezza ho dato le mie ricette tutto ci ho detto mi dia quello che ha dice cosa penne calendari non avete fatto niente ci rischio per per l'anno nuovo dice se vuole ci diamo il calendario calendario io gennaio ci resti 50 kg di bombole o salomiere cartoleria negozio di detestivi c'è se la mia è piena c'è se poi un calendario della farmacia volendo mi manca me lo dà così c'ho il numero quando c'ho di bisogno chiamo dice signora a domicilio non ne facciamo noi c'è salomiere che le chiama e ci mandiamo un picciotti e due certo va bene ma non è che il numero c'è per informazioni certo va bene me lo dà e se penne non ne hai c'è no e no e c'è se la penna ci deve essere io come segno un tuo calendario le cose e dire signora comunque non farmi parlare più chi dice signora salevole a casa ci do quella mia basta che non parla più ci ho detto grazie nel frattempo c'è se chiede ma c'ero io e la c'è le tonne c'è le tue n c'è se chi è fuori e fuori c'è se non entra più aspetta che io finisco e poi c'è se tu ho fatto bene semplice poi all'andare nel mentre lei che me ne andavo tutti mi guardavano così guardate tutti buonasera signora pittinio buonasera non capisco perché non capisco perché poi sono passata dal fruttivendolo è un grande fruttivendolo quello che c'ho io qua nella zona un fruttivendolo non per dirlo uno dei migliori così appena mi ha visto c'è signora signora titina cosa cosa ci diamo un broccolo dice un po dice di scarola dice se non mi deve dare né uno né l'altro sono a sua disposizione gentile dice cosa vuole c'è se penna calendari agenda non avete fatto niente se no signora li stiamo facendo fare dice stiamo facendo fare dei calendari e la penna a forma di banana ci sarà la penna a forma di banana c'è se quella te la tiene tu dammi solo calendari agenda non è fatto dice no dammi solo il calendario se no signora sono in stampa mi diranno a chissù non stampa ci si è fatto stampare poi due penne e merone dice ma non ne ho penne ti do io e io capito avevo quella di quella della farmacia e ce l'ho data dice che cosa ci vuole messa l'ananas dice che a me piace l'ananas a così quando dice che a chissù tagliava la penna ci sarà meglio la penna falla fare e poi mi dice no penna non ne posso fare va bene via vai c'è poco da fare passo dal bar pur passavo dal bar direttamente lì quella signora di tina che sape che io ogni tanto ci vado un bignè capito non questo dove vado con polpi intanto avuto il bar dice che le offro un caffè penna e calendario cioè quale penna e calendario ci si non ha fatto niente dice no ma io dico ma è possibile che un'attività non doveva fare c'è di sé penne con calendari ci sarà io capito che a me servono queste cose qui dice il prossimo anno vi faremo per i clienti affezionati ok poi nel mentre che camminavo 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 mi sento chiamare signore divina che io cacciare aiuto quando fu di mio marito invece mio marito è qua dice signora divina certo prego dice venga certo che c'è era quello delle casse da morto che c'è che c'è qua certo prego mi dica dice ho per le qualcosa c'è che cosa dice penna calendario agenda dice è anche un portachiave bello signore mi ha detto un portachiave una cassemo e opportunità a così dice che porta bene ce l'ho messo da vinto è calendario signore mio è un bello calendario signore a guardarlo proprio è meraviglioso capito allora io sono così io sono così io ricordo quando c'erano le sagre le sagre ora dice che non ci sono più non ci posso più andare perché la mia macchina non me lo permette ma quando la mia sinca mille era nuova signori miei io sapevo che c'era quella sagra per esempio sagra del carciofo sapevo che cominciava alle 9 io già alle 7 ero parcheggiata la così quando venivano gli altri cevo ci sono prima io a fare cosa signore a prendere le cose sono stata e mi portava cacuocciole a cuocciole carciofi veramente a casa di tutto poi c'era la saga del buccellato qua ci sono tante saghe di buccellato ok e quindi io la presente direttamente capito ma io sempre con occhiali diversi non questi occhiali e cappelli diversi per coprire il rosso quindi prima mi presento primo buccellato primi tre pezzi di buccellato poi vado in macchina contenitore occhiali cappuccio non si vedono i capelli altri quattro pezzi di buccellato e quando finisco quel tavolo passo all'altro che loro più avanti ce ne sono tanti ma ora ho saputo che ci fu la degustazione del panettone e io non ne sape niente me l'hanno detto dopo me l'hanno detto dopo ma non fa niente non fa niente il il prossimo anno non mi fregano più il prossimo anno qua un bel calendario qua ne ho uno da neonato non posso sbagliare non posso sbagliare più giorni ok perché dove vado vado c'è il calendario mi ne misse pure uno sopra il bidet e uno di lato nel bagno che quando una si siede per andare nel bagno quantomeno capito io vado a ricordare perché nei calendari ci sono scritti pure i compleanni le cose io segno tutte cose ok tutto com'è che io ho scoperto che natale veniva quando viene natale per esempio di lunedì o le feste vengono perché io controllo nel calendario quando vado nel mese di dicembre strappo e prendo capito tutto qua signori miei viva viva quanto penne ha caso uno vi volesse fare vedere voi non ci credete ma è così quanto penne ha io guardate qua quanto 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 capito perché veramente poi c'era uno che era stonato ogni volta che ci andavo mi diceva ma gliel'ho data la penna no e marava ma gliel'ho data la penna no perché qualcuno ci può sembrare che scherzo aspettate aspettate che ora ve lo faccio vedere io mi sembra che io scherzo io non scherzo eccomi qua questo è solo uno il bello che poi io ci sono riandato dice no le penne mi sono finite grazie me le hai sedute a me come si fa a essere stonati così ogni volta che passavo di là mi diceva ce l'ho dato la penna io ci diceva no ora ve lo faccio vedere qua tutte le penne le ho tutte qua tutte tutte ecco qua questo che mi diceva ma te l'ho data la penna io ci dicevo sempre no guardate quanto ne ho vedete tutto qua questa me l'ha data maruto questa me l'ha data un altro vedete questa me l'ha data un altro no io signora cos'è chissà 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 camaretta in avuto vedete perché l'hio misse tutte cacca poi che mi riesce a uno me l'esce aspetta un me ah caccia l'avuto avvio questo che mi ha detto ce l'ho data ora io poi quando ci passavo questa è nata di nuovo ho visto che non me l'ha detto più ce l'ho data la penna ha detto buonasera signore ci ho detto ma penne mi ha fatto dopo meschino cameretti tutti chissà dice no signora li ho finite tutti ci ho detto mi è resta tutta mia e non si ricorda e non si ricorda ah caccia l'avuto vedi questa qua sempre la stessa persona sono uguali vedete c'è su cosa cacca un saccio perché cosa si ebbe e ce l'ho io pure uno mi ha dato questa che è meravigliosa questa si fa così e ci sono i bigliettini per scrivere i bigliettini insomma per scrivere qua un appuntamento e poi ci sono due penne una è mica tale una caccia e una caccia troppo bello subito ci passavo poi l'indomani ci ho detto me l'ha data la penna e dice c'hai rienti c'hai rienti dove deve andare assurdo signori miei vabbè non fa niente l'importante ecco qua è tutto quello che io raccolgo questa l'ho trovata per strada caruta una cecario che faccia la suntiera ma poi tavola molletta signori miei ho trovato pure per terra questo che può servire quello della luce un pittuso e ciumietto io non butto niente io quando cammino per strada la strada certe volte è oro poi che c'ho va vediamo se dici su avuto le cose ah c'è stato un colpo di vento e poi si fa a una c'aveva messa la tenda quella sapete quelle che fanno nel balcone e si abbassano quel pimento un tese rumoreo capito e invece cadere le cose pam questa tenda ci fecerà così che abbiamo un tese un tassello che può servire mette caso qualcosa non butto niente le penne li mettiamo a posto eh signore che vuole fare se non si fa così se va in palazzo ah ecco un altro mi ha dato questa il salumiere me l'ha data questa bellissima ma scusa scrive già lui dice no signora questa deve segnare lei le deve evidenziare evidenzatore si chiama certo che devo fare dice segni ogni volta quanto ci deve tutti i regali che veramente per me sono graviti ecco qua poi ai wow si poi mi ha detto il kiss non so che cos'è dice che è una cosa che è per il telefonino per caricare caldo ma non so dove devo mettere ah ecco se mi esce o se rompete ah ecco boh mettiamolo già io basta capiglio poi quando viene mio figlio mi faccio spiegare com'è sta cosa è qua che sarà bellissima un tassello un tassello ecco qua perfetto mettiamo tutto interno mettiamo tutto dov'era dov'era ora mi credete io mi auguro che ora mi credete perché mi dovete credere a me scusate che riposo non c'è non c'è penne 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 dovete portare di voi le concedenti non lo faccio pensare sempre io c'è così poca madre non c'è più come 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 scusate signori scusate nasi non c'è però io non c'è un ecco qua poi tutti questi calendari vedete ne ho tanti ma tanti io qua mi serve per scrivere io qua scrivo qua io giro e scrivo qua quando passa il mese strappo e metto gli appunti faccio questi tipo a foglie tutto qua sono andata pure nel dentista ok e quindi mi ha detto dice cosa certo a penne calendari qualcosa dice guarda ci posso dare un portachiavi ma me lo dia subito ce l'avevo messo da l'inter ed è un canino un dente capito bello però troppo bello dice che portano bene queste cose qui tutto qua sono andata poi in un amico mio che ha un negozio che vende tutto mangi di animali e tutte queste cose amico mio ci ho detto niente hai calendari cose non hai fatto niente dice sì l'ho fatto qualcosa aspetta e qua è merona su osso era un osso arrivo lì io poso questo osso a portachiavi proprio carino e sento fare bene l'osso mangio era vero un osso di cane infatti dice ma scusi il cane dice signora ma l'osso era vero dice io l'ho dato per il cane ci sembrava un portachiavi ma niente facesse penne cuose dice niente pazienza ci vuole pazienza e purtroppo ora mi rimangono con chi sei negozi con cibo domani mattina mi faccio questa bella passata sempre per racimolare ok i calendari queste cose di qua signori miei dice ma Titina sei fissata che i calendari è un regalo perché se io avessi accattato un calendario per me manco uno c'è un sacco tutto qua poi ho questa bella agenda qua che me l'ha mandata mamma Paola ecco con la penna quella che si fa pure nel telefonino vedete questa si fa così nel telefonino infatti mi sono lamentata con tanti negozianti a questo di qua che mi ha dato tutte queste penne che mi diceva sempre ce le ho date io ci dicevo no ce l'ho detto il prossimo anno deve essere con questo gommino se mi chiami serve per dice signora li faccio fare li farà fare per me pazienza questa è l'agenda vedete tutto qua la mettiamo qua io l'agenda questa di qua agenda 20-23 vedete piccolina graziosa capito tutto qua ecco qua un un manca tutto qua allora ci rimane soltanto aspettare l'anno nuovo e l'aspetteremo ok siamo qua per aspettarlo io certamente vi posso vi posso come dire vi posso dire veramente su quello mi dovete credere sul vero senso della della parola io sono sotto antidolorifico per fare anche questo video qui perché oggi veramente hanno un pochettino anzi molto ecco mi hanno tolto però io voglio ringraziare perché sono veramente finita in ottime mani e voglio ringraziare sempre 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 chi mi sta curando ok e allora grazie a tutti voi grazie per questa premiere grazie a tutti voi che avete scritto io senz'altro andrò a guardare chi ha scritto vi voglio sempre bene e sta si è già signor scusate dimmi Samara chi te l'ha data sta penna cui chi tu li detessi ma quale quello di qua ecco a palermo un negozio la romana ce l'ho io e poi che ti ha dato nient'altro ok ecco c'è ancora qualcuno che distribuisce penne dimmi dov'è domani ci andiamo dove pi 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 32 km ci sono ma posso accattare la penna io ma c'è tu ma come ci scoppasce da ah ecco con il fidanzato eh signori miei ok va bene va bene e Montone non ne fa cose di copenne cose niente fa per l'azienda che ha e sono veniente pure qui io cacchista manco ci arriva lascia che lo scopro io signori miei lascia che lo scopro io piccino scommigliare questa famiglia io che mi sta pegando forse per fissa chiamami chiamamelo a Montone chiamamelo ora ci penso io chiamamelo ho detto chiamalo la morria ci devo dire una cosa scusate signori miei purtroppo spicciate che chiure e io dove pronta ciao sono io la mamma ecco mi hai riconosciuto ma dimmi una cosa mi ha detto mia figlia Samara che non avete fatto niente so che avete cinque aziende voi e non avete fatto né penne né calendari cosa ah ne avete fatti scusami e chi mi dice che non l'hanno fatto no Samara mi ha detto che non avete fatto niente e allora dico domani tu che fai vieni qua a mangiare domani a che vieni domani qua porta un bel po' di penne che io li uso le penne lo sai la gente me le porti con chi dice perché gli appuntamenti che pigliare io più metà del matrimonio sono tante si si portami agende poi che avete fa calendari si si ma che cosa che cosa ah bellissimo portamelo di questi non ne ho ricevuto portamelo bellissimo me lo metto nella stanza di letto calendario elettronico ha fatto domani mi puoi che appena attraverso che appena tu mi esce dalla bocca da ci ponere pure a tomato mi interessa però troppo chiacchiere sto sentendo io no così chiacchiere tanto per dire capito mi figlia sa che cogli la penna dato di un negozio di detersivi di palermo sapendo che tu hai fatto le perle stilografica e il calendario elettronico e non ce l'hai dato scusami tu ti devi mettere nel mio panno hai capito va bene ci vediamo domani mi aspetto sul calendario elettronico ciao 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 salutami tua mamma ciao piccate sul moglione ebbene che vuole un romano appena idio sa le coglie senza niente rompiamo questo fidanzamento perché troppe speranze mi stanno dando però io l'abbiamo disposto alla iurincia muovendo il bel piccolo nuovo di zecca circa mai usato parla parla non ti preoccupare che usaccio io che fine avete a fare tutte le due separati no signori io signora così se non mi prego queste cose se non mi prego queste cose io amo l'onestà io amo non la bugia cioè tu fai le penne non le porti a tua suocera sapendo che capito appena tu le dice a cos'è ti fa sapere io sa mano sai ha detto che penne vuoi che mi anche sai scrivere vedi quanto è bastata si bastata bene proprio tu te ne hai vedi in tato ti eser te ne hai vedi noca bastata chi sei bastata bastata si a una mamma ci dice perché sai scrivere batite da lì che è meglio scusate signori sono così capito qua ci vorrebbe una telecamera accesa 24 ore al giorno per poter farvi vedere se voi mi date a me ragione oppure no ma sicuramente la ragione me la date è così ma cosa veramente da lezzare i canne veramente ora c'è un negozio di elettronica che vende stereo radio tutte queste cose di qua gira dischi romani ci va io ci dico non avete fatto una radietta personalizzata me la daranno me la daranno perché lo sanno che io anche là capito entro guardo e loro mi dicono sempre che desidera io ci dico niente ma ci dico mi rinfresca gli occhi una volta cibo che aveva nuovi arrivi frullatori questo quello cose per la casa aspirapolveri nuovi fare dire ci portavo un bellote di mosse di caffè eccomi qua dice signora che desidero posso guardare dice sì il guardare dice è libero non tocchi però non si preoccupi ma vi ho portato ci ho detto un bel termos di caffè caldo perché ve lo meritate dice signora abbiamo la macchinetta qua dietro ci saluriamo un po' e regalo ma nel momento un tuo latte e che dobbiamo fare grazie a tutti voi un grazie particolare a tutte le persone che hanno visto questo video e anche a chi non l'ha vista tutte le persone del mondo io auguro sempre tanto bene soprattutto tantissima salute perché bisogna essere sempre buoni nella vita e mai augurare cose brutte agli altri ok che è una cosa siamo tutti sotto questo cielo quindi dobbiamo tutti volerci bene va bene io voi sapete tutti tranne le mie cognate lo sapete inutile che ve lo ripeto sempre loro meno loro meno ok e speriamo che posso racimolare più penne che così il prossimo anno quando cominciano le scuole almeno me li vendo alla prossima ciao ciao